Siamo alle solite, Presidente Roberto Torchia, siamo alle solite perché non piove ormai da mesi e manca l'acqua e nessuno si preoccupa di questo fatto. Sì, sono anni che noi stiamo dicendo che questo è un problema che deve essere affrontato strutturalmente, nel senso che la Regione Calabria, che è la proprietaria della risorsa acqua e di tutte le infrastrutture, deve mettere in atto una strategia nuova sulla gestione dell'acqua. Io già più volte, anche in alcuni articoli, abbiamo delineato qual è la situazione della distribuzione dell'acqua. Questo territorio è sotteso ai due laghi silani, Larvo e Lampollino e dobbiamo ringraziare chi più di 120 anni fa li ha costruiti perché è stato lungimirante e ha permesso, diciamo, in una Regione che è ricca d'acqua, perché dobbiamo pure dirlo, la nostra Regione è ricca d'acqua. Forse è la più ricca d'Italia, forse. Una delle più ricche, rispetto alla Puglia, rispetto alla Sicilia, non c'è proprio paragone. Abbiamo questa ricchezza, però in questo momento non c'è una gestione dell'acqua che è confacente ai fai bisogni delle nostre economie, diciamo così. Abbiamo visto qualche mese fa la polemica del sindaco di Cotronei Belcastro sul luogo Lampollino che dalle foto sembrava desolato. Abbiamo delle mandrie di bovini che pascolano dove prima c'era il letto del fiume. Quindi proprio a rendere significativa la diminuzione dell'acqua. L'Arve e Lampollino sono collegati tramite una galleria e sono i serbatoi nati, dicevamo, 120 anni fa, che consentivano a questo territorio la tranquillità dal punto di vista dell'acqua. In questo momento si verifica che cosa? Che noi abbiamo denunciato da più anni, che nella legittimità, che è questo poi il paradosso, perché la società multinazionale, la 2A, che gestisce questi due laghi e produce energia elettrica con tre salti, nella legittimità, perché applica quanto previsto dalla concessione per cui fatto, gestisce l'acqua nel modo secondo le proprie esigenze, secondo le proprie necessità e secondo, giustamente, ribadisco io, perché bisogna ripeterlo, perché altrimenti, secondo i propri profitti, secondo le proprie strategie... Il problema non è la 2A, ma è quell'accordo che appartiene. La concessione del 99 scada nel 2029, è molto complicato, però se vogliamo approfondirla, noi abbiamo preparato pure delle slide in modo semplice, si dimostra qual è il percorso dell'acqua, i salti dell'energia, proprio per far capire, perché io credo che questo sia diventato adesso un problema serio, noi ogni anno praticamente chiediamo l'elemosina per poter avere l'acqua e poter permettere ai nostri agricoltori, nel nostro territorio dove c'è questa cultura pregiata, che comunque è una delle poche culture, quella dei finocchi, degli ortaggi, che ha una sua economia, ha una sua identificazione con un territorio e che permette a tante famiglie, a tanti agricoltori, anche all'indotto che gira intorno a questo tipo di cultura, di poter andare avanti. Noi non ce li possiamo permettere ogni volta di non programmare in maniera seria e soprattutto per dare la tranquillità a chi investe. Lei tiene conto che in questo momento abbiamo circa 3.000 ettari di finocchi piantumati nel nostro territorio. Quando va male? Che vanno poi sui mercati del nord, dell'Europa. Di tutta Italia, anche all'estero, vanno anche in Germania. Lo ricordiamo per chi ci ascolta che l'agricoltura è l'unica attività redditizia di questo territorio. In questo momento sì. Non perché parlano di turismo, l'agricoltura è quella principe. Se non c'è l'acqua si ferma anche quella, perché poi questo è il concetto fondamentale da far capire alla gente. Voi pensate che la Regione Calabria, dalle royalties che prende dalle concessioni per la produzione di energia, incassa, a prescindere dai comuni riveraschi, circa un 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro. I 3.000 ettari di finocchi che sono stati piantumati, quando va male, perché la rendita muovono sempre sui 15 milioni di euro, se va bene ne muovono 25-30 in tutto l'indotto che ha generato. Quindi capiamo bene che questo territorio non se lo può permettere. Ritorniamo comunque a Monte. Noi stiamo chiedendo da più tempo, però non troviamo un interlocutore. Quando andiamo alla Regione Calabria parliamo solo con i funzionari del Dipartimento dei Lavori Pubblici, neanche con quelli dell'agricoltura, perché sono loro che regolano i rapporti con queste società. E diciamo solo che non hanno la stessa sensibilità che potrebbe avere chi del settore, chi del comparto, alla piena conoscenza... O del politico. O del politico. No, politico non lo avete mai incontrato. C'è l'assenza. Io non voglio fare alcun tipo di polemica, perché non ne voglio fare e non mi interessa. Siamo in un periodo particolare. Però, dopo tutti gli articoli che abbiamo fatto, l'ultimo mi pare del 5 settembre di quest'anno, io mi aspettavo quantomeno che un politico del territorio o anche non del territorio... Quindi veramente è puramente casuale. Diciamo, approfondiamo, approfondiamo la tematica, vediamo se quanto sta dicendo questo consorzio, se vè questo presidente che forse è pazzo, che dice che l'acqua va a mare e non si usa invece per l'economia locale. Allora mi aspettavo che qualcuno approfondisse il tema e cercasse di trovare le soluzioni, io dico anche nel contemperamento degli interessi di A2A della regione e dell'agricoltura. Perché io non penso che ci debba essere l'estremismo di non considerare. La società investe se investe la A2A, però nel contemperamento degli interessi si trova la soluzione, io credo, ragionata... Anche per l'agricoltura. Anche per l'agricoltura, perché non è che stiamo chiedendo chissà che cosa. Non è più possibile, però noi che dobbiamo chiedere le mosse. Ogni anno arriviamo e diciamo che non sappiamo cosa fare. Dobbiamo fare la protesta, andare, fare, fare la trattativa. Con la regione siamo come se fossimo noi ad essere la controparte. Noi dovremmo essere il braccio operativo della regione, che tutela nel territorio gli interessi più collettivi generali di un territorio. La regione poi si interesserà dei consorsi quando sarà... Se devono leggere gli organismi, perché poi lì ci sono degli amici da garantire. Mi posso pure prendere la cosa che da dieci anni la politica qui, la regione, non ci mettono becco.